Abbiamo parlato della moltiplicazione dei pani e dell'entusiasmo che suscitò questo grande strepitoso miracolo tra la gente. Alcuni giorni dopo la gente intuisce che Gesù va a Cafarno e si fa trovare nella piazza principale di Cafarno. E in questa occasione Gesù riprende il discorso siete tutti qui perché avete mangiato il pane nel deserto ma dice ancora è la mia carne il vero cibo mangerete la mia carne. Questo pensiero per i giudei è certamente fu scioccante come noi possiamo mangiare la sua carne non siamo mica cannibali. Gesù calca il pensiero e dice ancora berrete il mio sangue e pensare che i giudei in nessun modo potevano bere o mangiare il sangue pena peccato grave perché era tradire la religione. Noi crediamo fermamente che Gesù si è fatto nostro cibo e nostra bevanda. Ogni giorno che celebramo la messa e ci si avvicina l'Equaristia all'altare per prendere la comunione noi mangiamo la carne e beviamo il sangue del Signore. E immaginiamo quella donna che toccò Gesù dicendo se tocco soltanto io sarò guarita. Se avesse saputo che in seguito Gesù avrebbe detto e io starò sempre con voi quella donna avrebbe detto ma allora io non solo voglio seguire Gesù ma voglio stare sempre perché voglio che Gesù stia in me. Difatti nell'Equaristia noi manciamo la carne e beviamo il sangue di Gesù e Gesù non vuole stare nel tabernacolo. Lì è appoggiato in attesa che il sacerdote prende quella pistide e distribuisca l'Equaristia, distribuisca il pane. La gioia di Gesù è stare nel mio cuore, stare sempre con me. Ma vi è ancora un altro aspetto. Il fatto stesso che Gesù viene dentro di me trova dentro di me tutti coloro che io pensavo di non trovare più perché abbiamo il corpo mistico. Gesù è con tutti i trapassati, con tutti i cristiani che sono vissuti e sono già in cielo e possiamo dire che ha incontrato i nostri genitori, i nostri parenti, i nostri amici e allora quanto noi ci cibiamo della carne di Gesù e quindi partecipiamo al suo corpo avviene questo miracolo grandioso che noi non percepiamo ma esiste. Cioè noi ci mettiamo in contatto con i nostri parenti, con i nostri cari. e quindi possiamo parlare con Gesù sempre. Padre Pio diceva quando volete parlare con me e io non ci sarò più venite in chiesa e mi troverete davanti a Gesù sacramentato. Venite a me voi tutti che siete tristi e afflitti, privi di amici, di amici, di amore, venite e io vi ristorerò. Quando farete la comunione non sarete più solo. Gesù viene in te e tu vivi in lui. Gesù vive l'equalistia con Padre Pio. Padre Pio si ammala e va alla visita specialistica a Napoli e il professore gli dice al superiore che aveva accompagnato Padre Pio fermati al convento più vicino perché il padre non può viaggiare e quindi in sostanza gli danno pochi mesi di vita. e Padre Pio viene a fermarsi al convento di Venafro e lì abbiamo le prime esperienze mistiche. Anche i superiori non sapevano che Padre Pio vivesse una spiritualità intensa e quindi fanno l'esperienza proprio a Venafro. e per rendersi conto di questo fenomeno di Padre Pio che va in estasi appena ricevuta la comunione chiamano il medico del posto il quale cosa fa? Vede Padre Pio dopo la comunione che è fuori dai sensi con gli occhi sbarrati. Allora prende una scatola dei fiammiferi, accentua un fiammifero e mette la fiamma proprio davanti agli occhi e Padre Pio non chiude gli occhi, era fuori di sé. Padre Pio viva questa realtà nel convento di Venafro e il superiore dice già che devo morire vado a morire a casa sua e la sera del 7 dicembre arriva al Pietricina. La mattina si alza, va in chiesa e canta la missa solenne completamente guarito.